Poche settimane dopo la visita a Vallo della Lucania del Premier Giuseppe Conte, arriva la prima attuazione di una delle proposte presenti nel Manifesto del Sud. Ad annunciarlo è il senatore cilentano del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello. Infatti, da gennaio del 2020, i treni ad alta velocità che continueranno la propria corsa a sud di Salerno verranno esentati dalle tasse di pedaggio dovute dalla rete ferroviaria italiana, un'importante novità attuata per incentivare i collegamenti veloci e i flussi turistici verso il Cilento. Attualmente prolungare un treno ad alta velocità fino a Sapri costerebbe in media annualmente 2 milioni di euro, ma da gennaio, con i costi di pedaggio pari a zero, per le società ferroviarie sarà molto più conveniente prolungare la propria corsa fino nel Cilento quotidianamente e non più solo nel fine settimana in estate. Ora sarà compito di Trenitalia assicurare per tutto l'anno le fermate dei treni ad alta velocità a Battipaia nelle stazioni cilentane e in quelle lungo la tratta per potenza, un notevole primo passo che garantirà uno sviluppo economico territoriale e che darà una grossa mano agli operatori turistici ed economici locali, favorendo la destagionalizzazione delle presenze dei turisti nel Cilento.